Ruggiflex, ci trovi a Cab de Tirrelli, invia Gaetano Accarino 37, telefono fax 089 46 27 62. Anche questa sera, alle ore 20, sulla web TV di Ocesana RSA Station, continua la serie di incontri di formazione e preghiera in preparazione alla solennità della Pentecoste, dal titolo Lo Spirito Santo Sorriso di Bellezza. Relatore di questa sera e di domani, martedì 18 maggio, sarà il biblista Don Antonio Landi, che ci parlerà di Gesù e lo Spirito Santo e dello Spirito Santo negli Atti degli Apostoli. Mercoledì 19 maggio, sempre alle ore 20, l'azione dello Spirito Santo nella celebrazione eucaristica sarà presentata dal liturgista Don Giuseppe Milo. Grazie. Grazie.